Edizione del notiziario del Corriere di Sciacca.it di metà maggio 15 maggio 2020. Quanti disagi devono accollarsi i cittadini, la carcerazione domestica da emergenza coronavirus, le difficoltà economiche ma anche i disservizi causati dall'impianto di compostaggio della virtuosa Sogeir gestione impianti e così domani si replica il salto del turno della frazione dell'umido a distanza di pochi giorni. Temperature alte e monnezza a casa. Domani ennesimo salto di turno a causa dell'impossibilità di conferire nell'impianto di compostaggio incontrata a Santa Maria. Quindi anche domani a non uscire da casa saranno anche i mastelli dell'umido. Risultano negativi ai tamponi rinofaringei, quattro operanti all'ospedale San Giovanni di Dio. Tra l'altro l'ASP di Agrigento comunica che tutti i 929 operatori sanitari dell'ospedale di Agrigento testati come da protocolli di sorveglianza possono considerarsi esclusi da positività al virus. Giunge così definitiva chiarezza e si eliminano dubbi che lo stesso presidio possa essere stato un focolaio di infezione e contagio per tutti coloro che vi afferiscono. I consiglieri comunali Calogero Filippo Bono e Giuseppe Migliotti sollecitano l'apertura di un tavolo di discussione che metta insieme tutte le giuste e fattibili proposte di tutte le componenti politiche e non politiche con l'intento di aiutare le aziende piccole, medie e grandi della nostra città. I due consiglieri osservano che il nostro ente ancora ad oggi non ha neanche una bozza di bilancio su cui tutti, a iniziare da noi che facciamo parte della commissione competente, possiamo lavorare per capire come individuare quelle somme da destinare a eventuali aiuti da dare alle nostre imprese. Bono e Migliotti chiedono al più presto una seduta della commissione bilancio nel corso della quale confrontarci con gli uffici e amministrazione comunale sulla tematica cercando di capire con i fatti che cosa dare. Se l'imputato dovesse presentare sintomi da possibile covid-19 sarà valutato dal personale sanitario. In ogni caso non spetta all'autorità giudiziaria valutare questi aspetti. Nuovo no del GIP di Palermo alla richiesta di scarcerazione di Antonello Nicosia finito in carcere con l'accusa di associazione mafiosa perché avrebbe, fra le altre cose, strumentalizzato il suo incarico istituzionale per entrare nelle carceri e veicolare all'interno e all'esterno i messaggi dei boss. Il suo legale, l'avvocato Salvatore Pennica, aveva proposto al giudice di concedergli gli arresti domiciliari ipotizzando un'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario a causa dell'asma e dell'emergenza sanitaria in corso. Il cadavere ritrovato nel mare di Ustica nel pomeriggio è quello di Giuseppe Loiacono di 33 anni, uno dei tre marittimi del peschereccio Nuova Iside di Terrassini che risulta disperso da martedì pomeriggio. Era a bordo con il cugino Vito di 26 anni e il padre di quest'ultimo Matteo di 53. erano impegnati in una battuta di pesca di pesce spada. Una motovedetta della guardia costiera ha trasportato il cadavere fino a Terrassini. Per il momento è tutto, mi fermo qui, potete consultare tutti gli argomenti all'interno del nostro portale online gioprestiacorrieredisciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.